Si era costruito un vero e proprio impero grazie ai proventi della vendita di droga, maxi sequestro di beni e conti bancari riconducibili al 34enne palermitano Vincenzo Bagnasco, arrestato nel 2014 nell'ambito dell'operazione Horus in cui furono arrestate 32 persone appartenenti ad un'organizzazione criminale che avrebbe gestito un drive-in della droga nel quartiere della Zisa. Quattro le case sequestrate oggi, oltre ad un magazzino a Palermo, un terreno a Carini e due conti bancari, per un valore complessivo di 200.000 euro. Proprio grazie all'inchiesta Horus, avviata nel marzo 2013, era stato possibile accertare gli innumerevoli scambi di stupefacenti che avvenivano anche tra bambini e auto in coda e ricostruire la struttura dell'associazione, capeggiata proprio da Bagnasco. Tra i clienti inoltre era emersa anche la presenza di un professore di una scuola media. Grazie ad intercettazioni, pedinamenti e grazie all'aiuto dei sistemi di videosorveglianza piazzati per strada, è stato possibile individuare clienti e venditori durante lo svolgimento dell'attività illecita che avrebbe prodotto circa 2.000 euro al giorno di ricavi. Grazie. Grazie. Grazie.